Ci siamo lasciati che io auspico che comunque si arrivi ad un compromesso, che comunque il confronto non si chiuda oggi ma continui in altra sede e che si arrivi a trovare la realizzazione di un intervento così importante per il territorio che sia condiviso. Rispetto a queste posizioni contrastanti la Regione come si pone? È pronta a fare quello che emergerà da un accordo fra queste due visioni? La Regione gestisce queste risorse di questo fondo FSC ma non approva i progetti. I progetti vengono approvati dagli enti locali. La Regione nel merito della realizzazione della ciclopista non ha competenze sul tracciato. È ovvio che tutto quello che decidono gli enti locali se dovessero decidere con il Comitato, la Regione, se può fare qualcosa per aiutare lo farà sicuramente.